Incontro all'Hotel Eccelsior di Napoli su imprese, banche, fiscalità e rappresentanza tributaria nel futuro professionale dei revisori legali. Organizzato dall'INRL, l'Istituto Nazionale dei Revisori Legali, una figura professionale relativamente nuova, il cui primo collegio di categorie è stato inaugurato proprio a Napoli, e che rappresenta un elemento di garanzia per i clienti di istituti di credito, interventi del Sottosegretario della Giustizia, Cosimo Maria Ferri, il Direttore Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, Annibale Dodero, e l'AD di Equitalia Holding Benedetto Mineo, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Chiaramente ci saranno delle situazioni complesse, però abbiamo deciso in questo accordo che in queste situazioni complesse ci vedremo, ci incontreremo anche a livello locale per parlarne insieme e risolverle insieme.